Mai come oggi affrontare il drammatico problema rappresentato dalla violenza contro le donne è diventato urgente e chiama ognuno di noi a un impegno immediato e concreto. Vogliamo affermarlo con forza in questa giornata, che diventa l'inizio di un nuovo cammino da intraprendere insieme, tutti i giorni, educando al rispetto dell'altro e dell'altra, sensibilizzando le coscienze su questi temi e avviando azioni concrete per garantire alla nostra comunità che nessuna donna debba subire mai più alcun tipo di violenza. Il capitale della Segafredo, Marco Bellinelli. In particolare, ci impegneremo affinché lo sport che noi rappresentiamo diventi portatore di un messaggio chiaro che condanna ogni odioso tipo di violenza nei confronti delle donne e si impegna a accompagnarlo con constanza e testimonianza, appoggiando e supporto ogni iniziativa che possa sensibilizzare le coscienze, educare i giovani e contribuire a eliminarla. Ora, osserviamo insieme un minuto di silenzio in memoria delle pittime del femminicidio. Grazie. 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 Grazie.